Impressionante! L'hanno messo in acqua adesso, piazza là, penso che fosse là, sul giornale ci ha scritto che la mettevano in acqua oggi, qui, spiaggia? Sì! 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 Te lo ricordi nene tu? Sì, erano verdi? Quessi sono quelli della marina, quelli che stanno parlando da colore verde in Milano, no? Stai raccontando nero le cose! I primi due sono saliti sulla rampa della facciura, della galleria di Giegata, noi eravamo dentro. Dopo i due sono sentiti qui, davanti. Quelli che si vedono anche le foto. C'era un po' di rampa e sono venuti qui. Dopo altri sono schiati. Erano verdi? Sì. Erano verdi perché erano dell'esercito. E ci stavano su 24 persone su di qua? Eh? C'era sentito che ci stavano 24 persone. Sì? Ci stavano dentro. Insomma, lì davanti alla barra azzurra non ce n'è uno con 23 morti? Sì, fatte. Mi sembra piccolo questo. E beh, sai, lì, ce ne stanno su. Io ne ho viste uno saltare in acqua. Che anno sei tu? 35. Ah, allora avevi 10 anni. Eravamo dentro, eravamo diffusati nella galleria di Giegata. Eravamo dentro un po' di metri tra le sacche. delle prese, i toni, il ferroletto della Capronia, la fabbrica d'aeree, no? Eravamo guardando un po' e venivamo gli alfibi che venivano su dal lago. E i tedeschi dal Brione sparavano. Vedetevi i buvoli d'acqua che venivano su. Però uno l'ho visto proprio, c'è un grande spiega. E adesso è andato in aria. Ma ho visto questa roba galezzare lì. Allora io saprei dirti esattamente... Ciao. Ciao. Esattamente l'alcezza del lago. Però è... Che distanza dalle galleria? No, perché andò dentro. No. Io l'ho detto anche gli americani. Ah, sì. E quanti erano su? Su due. Su due. Non si so. Alcuni erano carichi di uomini, altri erano carichi di metalli. No, non posso. No, sì, erano solo due. Comunque, a me la città là, c'era uno sotto. Questo è... Sì. Con quanti uomini non lo so. Senta che fa impressione vederlo qua, adesso di nuovo non è fatto. Eh, con chi l'ha visto l'ora, sì. No, ma anche fra me che non l'ho vista. E tanto se... Non so che sarà la guerra. Adesso qua sono in surf che vanno adesso. Eh? Come cazzo?